Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, in direzione Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla FIPILI in direzione Firenze ci sono code per incidente tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna, e code a tratti per traffico intenso tra Lastra Assigna e Firenze Scandicci. E code in uscita a Scandicci in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze è chiuso lo svincolo di Tavarnelle in direzione Firenze fino al termine dei lavori. Possibili disagi per lavori e scambio di carreggiata tra Tavarnelle e San Donato. In A11 in direzione Firenze è chiusa l'area di servizio di Miglialino Sud per lavori. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!